L'esperienza nella materia. Cerchio e seno attraverso NT. Amedeo. Coraggio figli, coraggio. Quante istanze, quanti desideri, quanti timori in voi figli. Ma questa è l'esperienza nella materia, fatta di tanti dolori e di effimere gioie, fatta di tante speranze e moltissime delusioni, perché così nella materia lo spirito può evolvere. Perciò sappiate apprezzare e godere delle piccole positività, delle piccole gioie, e sappiate altresì affrontare i tanti dolori, i tanti dispiaceri che la vita vi pone perché, ricordate, ogni piccolo passo fatto nel dolore e nella speranza disillusa, è un piccolo passo per l'evoluzione. Fratelli, vi benedico e vi abbraccio tutti.